Buongiorno a tutti, Magis è presente a Enovitis insieme a Bayer Crop Science per portare più valore nel vigneto e nella produzione del vino. Sono Colombo Matteo, responsabile del trade marketing di Bayer Crop Science e abbiamo deciso di partecipare attivamente a Enovitis dove peraltro l'azienda cattolica agricola partecipa anch'essa al progetto Magis. Magis vuol dire poter bere un vino a occhi chiusi senza preoccuparsi di quello che è successo nel campo e nella produzione, solo per gustare il sapore e tutta la storia che sta dietro a un vino. Abbiamo deciso di supportare come azienda questo progetto perché riteniamo che l'innovazione sia il motore per potersi migliorare continuamente. Magis vuol dire fare di più e noi vogliamo essere partner delle aziende che vogliono fare di più in campo, in cantina, perché solo migliorandosi possiamo essere presenti sempre meglio nel mercato e offrire una soluzione di qualità. In questo periodo la qualità non basta più, bisogna produrre in maniera attenta all'ambiente, attenta all'uomo, attenta a tutta la storia che ci circonda. Magis fa esattamente questo lavoro, esalta la professionalità dell'agronomo, esalta la sua capacità di interpretare le condizioni, l'annata e quello che succede nel campo e gli fornisce informazioni e strumenti per poter fare le scelte migliori, sempre rispettando quello che è la storia del territorio in cui si trova. E noi potremo quindi bere un vino occhi chiusi, sicuri che quel vino è sano oltre che buono. Ai novitisi in campo possiamo vedere che cosa significa fare Magis nel concreto. Grazie all'aiuto dei partner abbiamo realizzato la mappa del terreno e del vigneto tramite il quad fornito da Ager e i sensori forniti da Spettra Agri. I risultati in tempo reale sono stati trasferiti nel paderno di campagna di ImageLine e abbiamo segnato tutti i trattamenti fatti attraverso la linea della Bayer e anche delle altre aziende che hanno voluto integrare questo tipo di esperienza. Adesso siamo pronti per aspettare che l'uva cresca e si arrivi finalmente a poter fare la vendemmia. Poi ci sarà l'audit che viene svolto dalla società di certificazione di NW. In questa maniera il percorso sarà completo e potremo mettere in bottiglia il bollino. Questa è la grande novità di Magis che da sei mesi il vino è certificato da un ente internazionale accreditato che può finalmente dare valore e chiudere il cerchio e portare sullo scaffale un vino certificato sostenibile.